Emanuela deve tornare a casa, viva o morta deve tornare a casa. Abbiamo appreso dell'apertura delle indagini da notizie di stampa. Al contempo io e Pietro cercavamo conferma l'uno sull'altro per capire se effettivamente questa notizia era vera. Quindi l'abbiamo saputo così e a mio avviso sarebbe stato forse più cortese avvisarci prima. Però devo dire che anche quando aprirono le tombe del Teutonico nel 2019 noi l'abbiamo appreso da un bollettino della Sala Stampa Vaticana. La speranza che questa sia la volta buona c'è sempre, anche perché 40 anni sono la metà della vita media di ciascun individuo. E' un tempo infinito. Io francamente non lo so come questa famiglia abbia potuto sopportare tutto questo per tutti questi anni. Ora secondo me è arrivato il momento di restituire alla famiglia la verità su Emanuela. Emanuela deve tornare a casa. Viva o morta deve tornare a casa. Siamo stati certamente contenti. La notizia è stata accolta evidentemente con favore perché l'apertura dell'indagine vuol dire comunque che c'è un'oggettiva volontà di ricercare la verità, o quantomeno così dovrebbe essere. Quindi è stata presa sicuramente con un effetto positivo, però anche con tutta una serie di domande che ci siamo posti nell'imminenza. La domanda che ci siamo fatti tutti è ma su che cosa stanno indagando? Noi abbiamo letto sempre negli organi di stampa che stavano indagando su istanze della famiglia, ma l'ultima istanza che ho presentato è stata un anno fa. E se è quella di un anno fa, perché apri un'indagine un anno dopo? E perché lo fai adesso? È un caso? Da qualche giorno della morte di Papa Benedetto ha a che fare con le rivelazioni nel suo libro di Monsignor Gasvein? Tutto questo secondo noi ha giocato un ruolo e aggiungerei anche un altro tassello. C'è anche il fatto che è stato depositato un DDL, un disegno di legge, per l'istituzione di una commissione di inchiesta per trovare la verità su Emanuele Orlandi. L'onda mediatica di non poco conto di Vatican Girl, che ha fatto conoscere la vicenda di Emanuela in tutto il mondo. Sono tutte domande che ci stiamo ponendo, alle quali speriamo di avere una risposta. Saranno riviste tutte le piste, analizzate da chi? Dalla Procura di Roma? Cioè il Vaticano intende fare una sorta di rivisitazione degli atti della Procura di Roma? O intende effettivamente porre all'attenzione degli altri quel famoso fascicolo interno di cui si parla da tanto e di cui loro hanno sempre negato l'esistenza? Quindi anche questo è un bel interrogativo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.